Musica Bentornati ragazzi sul canale di Joke in Next Gen E siamo qui oggi con un nuovo episodio di FIFA 16 E praticamente più nello specifico la Draft Foot Oggi vedrete un altro match, il secondo match che faccio Allora ragazzi l'altra volta mi sono poi accorto che non vi ho fatto vedere Chi ho trovato come sostituti e riserve oltre ai titolari E quindi oggi prima di farvi vedere la partita vi voglio farvi vedere la mia formazione Allora come avete visto l'altra volta Gero, Ronaldo, poi ho trovato Bale, Matic, Schweinsteiger e Ramsey E poi vabbè i soliti Danilo, Godin, Thiago Silva, Adriano e in porta Navas Che ragazzi io poi come sostituti avevo trovato Trap che ve l'ho già fatto vedere Poi Colker, Arbeloa, ho trovato Neymar, Verratti, Di Maria che lo avevate visto Mathieu il difensore del Barcellona Poi ho trovato Abram, Recio, Bojan, Fischer e Catermall Quindi questa è tutta la formazione che avevo trovato e come allenatore ho preso Gian Piero Ventura Ok ragazzi quindi ora fra poco vi faccio vedere la seconda partita del draft foot Ok ragazzi eccoci tornati, questa è la formazione del mio avversario Come vedete anche lui molto forte, Cristiano Ronaldo, Neymar in avanti Poi vedo De Bruyne che riconosco al volo, c'ha Alaba Vedo Casillas, ho visto Pastore Quindi una buona formazione, dobbiamo stare attenti Ovviamente avendo una valutazione alta io, anche i miei avversari hanno una valutazione alta Allora ragazzi siamo pronti con la seconda partita del draft foot Vediamo subito come va Palone messo dentro Traversa del nostro avversario subito Con Neymar Tiro del nostro avversario ancora facile parata No 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 Subito ragazzi l'avversario è in vantaggio Ah fuori gioco ok, ok fuori gioco ragazzi Per fortuna era fuori gioco Attenzione Garrett Bale Garrett Bale, CR7 avanza, CR7 CR7 ancora, CR7 Fermato all'ultimo secondo Sinceramente pensavo già di essermene andato e di poter tirare Attenzione, ora dentro il nostro avversario prova ad avanzare Nulla da fare però Schweinsteiger Dentro CR7, bellissima CR7 CR7, Schweinsteiger, avanza Schweinsteiger Dentro CR7 ancora Tiro di CR7, gol E il vantaggio, 1-0 CR7 non sbaglia CR7 ragazzi, 1-0 CR7 Ancora pallone dentro, CR7 Prateria, CR7, CR7, CR7 Tiro Parata Incredibile tiro di CR7 È stata veramente una scamorza Dentro palla per CR7 Ancora CR7 Tiro Miracolo del portiere Schweinsteiger dentro Cross colpo di testa Rimpallato Dentro palla Il portiere Non so come se la ritrova in mano Ci sarebbe Bail però ragazzi Io sfrutto lui CR7 Vediamo un po' Se riesco a fare un gol A onzolo Vediamo un po' Vediamo un po' CR7 Parte CR7 Illusione del gol L'avevo vista dentro Esterno della rete No ragazzi Mi sono fatto veramente fregare Ha pareggiato con Griezmann Uno pari Pallone dentro Ancora per CR7 CR7 se ne va È solo CR7 Tiro Ancora parata Del suo portiere ragazzi Vai in avanti Il nostro avversario Attenzione Attenzione Vai in avanti Tiro Traversa fuori Non sarebbe stato giusto E finisce il primo tempo Quindi Finale del primo tempo Col botto Ci vediamo fra poco Con il secondo tempo Toglierci palla Ce l'ha fatta Attenzione che avanza Attenzione che avanza Pallone messo dentro Neymar Neymar ancora Neymar ancora Neymar Tiro Fuori di pochissimo Vedete lo scatto di Bail Garrett Garrett Tiro Era contrastato Non è riuscito a dare potenza Al tiro Garrett Bail dall'altra parte Vede lo scatto di Neymar Velocissimo Neymar Attenzione CR7 CR7 avanza Può arrivare al tiro CR7 Il tiro Il miracolo Non ci arriva di testa Garrett Matic ancora Matic 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 Alaba Io non l'avevo visto Ragazzi sinceramente Non vedo il calcio di rigore Ve lo dico Sinceramente Non c'è calcio di rigore Secondo me CR7 si avvicina Attenzione Proviamo a Segnare Il gol Del 2 a 1 Vediamo Se ce la facciamo Attenzione CR7 Tiro Gol Ragazzi volevo fare lo scavetto Non mi è riuscito Comunque mi è andata bene Ecco qui l'esultanza Di CR7 Volevo fargli lo scavetto Non era un tiro centrale Ma non è Ho messo il calcio Di spingere il tasto 2 a 1 Sta subito provando Ovviamente La reazione Uh di pochissimo fuori Ragazzi mi è andata Benissimo Tiro Parata Miracolo Beh il dentro Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Avanzo ancora CR7 Un dribbin Un dribbin Il tiro 3 a 1 CR7 Come vi dicevo prima Ha impostato sicuramente La formazione In offensiva E ha pagato Dazio 3 a 1 Guardate ragazzi Che gol Finta E Cristiano Ronaldo Non perdona Neymar Non mi riesce la finta Questa volta Ha capito tutto Matic Che cazzo fai Che la dà dentro Attenzione Cristiano Ronaldo CR7 Era in fuorigioco Me l'ho scartato Anche il portiere Che era non so Quanti metri fuori Dalla porta No 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 Grande Sbaglia tutto Navas Miracolo Sbaglia tutto Davanti alla porta Era troppo sicuro Di segnare E ha sbagliato Attenzione Siamo ormai Novantesimo Ed è angolo per noi La partita dovrebbe Non voglio Essere sicuro Vabbè Se hai vinta Miracolo Quasi 4 a 1 È finita È finita Qui ragazzi 3 a 1 Ho vinto Anche la seconda partita Del draft foot Quindi Andremo avanti Nel prossimo episodio Vi porto La terza partita Del draft foot Sperando di poter proseguire Ok ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Se è così Lasciatevi il solito like Commentate Condividete E vi voglio dire una cosa Se questo video Raggiunge Almeno I 10 mi piace Vi porto Un pack opening Su fifa 16 Quindi cercate di far raggiungere Almeno i 10 mi piace A questo video Qui da AngeloNelo83 È tutto ragazzi Ci vediamo Al prossimo video Bella Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti